Allora vai, facciamo il volo a sta missione. A me mi sentono, poi non so se è attivato che ti si può sentire. Ah, non, ancora me ne mancano 5.500 euro. 450 70 c'è l'incarico fisso l'incarico fisso 20 dai ora finita no vabbè easy aspetta va spacchiamo tutto e faccio il volo una resistenza ok ma il gioco mi ha truffato uno di ferro 10 per il gioco aspetta 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti